. Tutto il seno e il capezzolo turgico che balsano inevitabilmente agli occhi. È una Belen più sensuale e provocante che mai quella che si mostra in foto nel giorno della festa della donna. Belen provoca i fan, sotto il microabito non indossa la biancheria intima. In mano a un mazzo di fiori colorati, gli occhi sono chiusi e una cascata di lunghi capelli ondulati le impornicia il viso. Che dire, i fan hanno apprezzato e come? La sensuale argentina sembra non indossare la biancheria intima. Lo si vince dagli indizi nella foto su Instagram, ed è inevitabile che la curiosità e la fantasia dei followers sia stata innescata da quel seno in evidenza sotto l'abito giallo in dormiz. Un fianco nudo della showgirl fa il resto, rendendo l'immagine decisamente hot e ad alto tassi erotico. Oltre 256.000 e like allo scatto, e non c'è da meravigliarsi? Belen Rodriguez e Stefano De Martino avvistati, di nuovo, insieme, torna l'amore? Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? Intanto ultimamente se lo stanno chiedendo. Che tra la ex coppia ci sia stato un riavvicinamento è palese, entrambi non lo negano nemmeno più. E dopo una nuova foto che li ritrae insieme ad un evento pubblico, il gossip impazza più che mai. Gli ex coniugi hanno partecipato ad una sfilata di abiti da sposa organizzata da Atelier M a Verona, e sono apparsi sorridenti e complici. Dopo la pubblicazione su chi di alcune foto che li immortalavano in aeroporto scambiarsi un tenero bacio, si parla di un possibile ritorno di fiamma tra loro. Loro fanno i sibillini e non si nascondono più, si fanno addirittura fotografare insieme. Punto punto.